ciao bellezza e bentornate su vaniglia chic oggi spacchettamento di profumi dupe super super low cost ma prima di tutto ciò indovinate un po' sigla ben rientrate ragazze su vaniglia chic oggi video spacchettamento di profumi super super low cost ma soprattutto parliamo di dupe mi è appena arrivato un pacchetto da parte di essenzia che è un'azienda spagnola che si occupa di profumi dupe molto validi super low cost sapete che sul mio canale porto un po' tutto porto anche insomma profumi high cost ma soprattutto mi piace scoprire dupe low cost che ovviamente possono possono essere delle scoperte interessanti è il caso di essenzia che davvero mi mi coccola con i suoi profumi voglio parlarvene e adesso andiamo a vedere che cosa mi ha inviato allora ragazze oggi fa un po' freddino quindi sono nella mia camera da letto al calduccio sul mio bellettino perché voglio rilassarmi voglio parlarvi di questi profumi inizio con il il 320 eccolo qui il 320 si ispira al profumo kilian women in gold che è un profumo che non conosco ma ovviamente ero molto curiosa di provare si tratta di un cipro in questo caso adesso vi faccio vedere anche la bottiglia ed è un 30 ml e il costo davvero molto molto basso quindi potete accedere a questi profumi con molta molta tranquillità vi vado a prendere anche le note olfattive di questo profumo che ha rilasciato essenzia che nonostante sia un dupe ovviamente ha un'anima comunque tutta sua questa è la bottiglia da 30 ml molto carina molto essenziale parliamo di un profumo che ha in testa bergamotto mandarino e aldeidi ed è un cipro mentre nel cuore troviamo assoluta di vaniglia rosa geranio e fresia e in fondo invece troviamo vaniglia akigalavud fava tonka e paciuli quindi il mio amato paciuli parliamo come vi ho detto di un cipro un profumo davvero molto carino che io ho già indossato e che mi piace davvero tantissimo quindi sicuramente anche il profumo a cui è ispirato il kilian women in gold deve essere sicuramente un profumo meraviglioso perché anche questo profumo che è il suo dupe per il suo insomma ispirato a questo profumo mi piace tantissimo e questa è la prima fragranza che mi è stata inviata ovviamente ragazze io vi ho già parlato di essenzia vi ho già detto che questa azienda mi piace tantissimo però ogni fragranza va a sé quindi questo è uno spacchettamento voglio provare queste fragranze nello specifico e voglio assolutamente parlarvi poi della durata di queste fragranze nello specifico e passiamo a quest'altra fragranza che è la 007 ed è un orientale questo profumo è ispirato ad armani privé d'arabi ed è un profumo che è incentrato soprattutto sulla rosa e sull'oud quindi un profumo prettamente invernale una rosa molto intensa molto intima con un'oud molto molto indisponente un profumo davvero molto buono molto intenso che ha come nota di testa il paciulli nel cuore troviamo vaniglia e rosa mentre il fondo è prettamente fatto dalla nota di oud quindi un fondo molto scuro un fondo molto imponente che viene fuori quasi subito anche se parliamo della nota di fondo perché l'oud è non solo imponente ma è anche per certi versi a volte molto molto diciamo invadente ma la coppiata con la rosa lo rende davvero un profumo stupendo quindi ve lo consiglio perché davvero molto molto bello io l'ho spruzzato appena da pochi minuti e già lo adoro parliamo del 323 che è una novità sul sito essenzia è stato da poco introdotto nella loro lista di profumi dupe e parliamo di un profumo che è ispirato ad ani nishan che è una fragranza che è stata lanciata nel 2019 ovviamente ed è un profumo unisex assolutamente fantastico profumo che ha come protagonista lo zenzero e devo dire che è davvero molto molto imponente ma adesso vi vado a leggere la piramide olfattiva e parliamo di un orientale che ha in testa zenzero, bergamotto, pepe rosa e note verdi mentre nel cuore cardamomo, ribes nero e rosa turca mentre nel fondo troviamo vaniglia, sandalo, benzoino, cedro, paciuli, ambra grigia e muschio quindi è una bella composizione nel fondo, devo dire che è un profumo davvero molto buono ed è unisex e parliamo di un orientale allora poi mi sono arrivati 4 campioncini e adesso vi faccio vedere a cosa insomma corrispondono e poi ci salutiamo il 218 che è il dupe di vip rosè di carolina herrera e anche questo non vedo l'ora di provarlo perché il vip rosè di carolina herrera mi piace tantissimo quindi voglio assolutamente provare anche il dupe lo 004 che è il dupe di amouage gold numero 171 che è il dupe di white paciuli di tom ford anche questo molto interessante da provare e il 322 e questo qui corrisponde a wood bouquet di lancome anche questo è un profumo molto interessante parliamo di un unisex questo è quanto ragazze io vi ringrazio di avermi seguita ringrazio voi ringrazio soprattutto essenzia che mi ha inviato questi bellissimi profumi tutti da provare ovviamente ve ne parlerò più nello specifico nei prossimi video insomma sto preparando un po' di cosine per voi nel box informazioni trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda essenzia dateci un'occhiata perché si tratta di dupe molto molto validi ma soprattutto parliamo di profumi low cost profumi accessibili a tutti che hanno un prezzo molto basso ma che sono degli ottimi profumi quindi grazie a tutte vi mando un grande bacio mi raccomando fatele brave perché a fare la cattiva ci sono già io vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video un bacio grazie a tutti